ma dai ti è accaduto cosa? che pirletti io ho il caffè il caffè a gusto limone ecco tu hai fatto cadere tutta la bustia ancora ma guarda ma guarda ma che pirla ti benedico con la mia forza che mi è stato dato dal nulla dai che stai sgocciolando sgocciolo io ma chiudo chiudo quando sei mongolo ahhh 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 ahhh